PERCHE LUKE E LUKE 4317 Oltre che essere affamato mi esce quel sangue Allora mangiamo Se vi ricordate nell'ultimo episodio Nell'ultimo che poi sarebbe il primo Mi ero chiuso in questa caverna aspettando il giorno Che non arriva mai Madonna Ragazzi oggi andremo in giro a cercare un po' A cercare un po' di cibo Logicamente E abbiamo detto che qua dentro io mi sarei fatto il primo rifugio O sbaglio Sapete ragazzi è due giorni che non registro questa serie E non mi ricordo più dove sono Ma lì c'è un dungeon O sbaglio Ragazzi c'è un dungeon o sbaglio Cioè c'è un Guardate Che roba è Wow 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 È uno spawner di frecce Oh porca vacca Uno spawner di frecce Solo di quando mi avvicino Io devo toglierlo ragazzi eh Madonna che spavento Madonna che spavento Bel cacchio beh Bel cacchio Oh porno è che vengono altre pecore ma non ho paura Continuiamo a cuocere Continuiamo a cuocere qua intanto Ragazzi uno spawner di frecce Non appena io mi avvicini Pum partono le frecce Cacchio Due frecce sono morto però Eh C'ho due cuore e mezzo Caschio Allora ragazzi mi è venuta un'idea Intanto mettiamo giù tutto ciò che può non servirmi Tipo questi Eh questo 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 Posso fare il letto adesso addirittura È vero Posso addirittura fare il letto Porca loggia Possiamo anche dormire Prologicamente il materasso va sopra e non sotto Possiamo addirittura dormire Per cui allargherei qua Eh Cacchio Allargherei un po' Ragazzi si sta riempiendo di gente Sento gente Sento gente Allora intanto qua lo userei come rifugio Per cui premiamo la B No cos'era la B No cos'era Come faccio a mettere i point? Era la H No Era la G Era la Y La U La F La J La K La R La T La C La V Così era? Era semplicemente la M Facciamo lo zoom Andiamo sulla nostra freccia E facciamo Tasto destro Rifugio Rifugio Ok ragazzi sto usando diversi pacchetti E mi dimentico Le cose Ok Sento un sacco di gente Allora Non posso dormire perché è pieno di zombie Ma che palle Ragazzi ho messo a cuocere un sacco di roba E ora Appena passerà il giorno Andremo a raccogliere Carbone Legna E se riesco anche del cibo Giusto per Poi poter passare un'altra notte Andare in caverna eccetera eccetera Cose magari vivevoli Un po' di cibo lo lasciamo a casa Se no ci riempiamo per nulla E qua volevo provare a vedere Se riuscivo a fare altro carbone No Perfetto Lo useremo come legna Per cui cuociamo Dividiamo gli ambaradam In questo modo Abbiamo un sacco di cibo ragazzi Però Lo lasciamo un po' a casa perché Se no mi riempirei L'inventario Possiamo andare Forse è giorno No ancora day zero Vediamo un po' Sta arrivando il giorno O è giorno Sta arrivando il giorno O è giorno Sono tutti sopra È giorno È giorno Allora intanto Possiamo chiudere qua Perché mi fa veramente paura È pericoloso In questo modo Chiudiamo tutto Perché non posso uscire Con la paura che mi cada qualcosa dall'alto Giusto? Siete con me? Con questo Con questa cosa che ho detto poc'anzi Ok Mettiamo delle torce Quella ragazzi Giorno Day one Day one Day one Qui invece io vorrei Andare sotto terra E andare a scoprire Che caccia è quella roba ragazzi Non mi interessa Ma voglio andarci No Ma porca vacca trotta Lorda l'Uri Ma da dove è arrivato? 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 Non c'era Era in alto Chiuso Da dove è arrivato? No Ed è la seconda serie Su questo pacchetto Che muoio al secondo giorno Al secondo episodio Che poi sarebbe il day one Perché è il primo giorno Il primo Ragazzi Se ne volete un'altra Non c'è il due Senza il tre Io ve ne reinizio un'altra Se no basta Cioè Questo pacchetto è impossibile È impossibile Un bacione in abbraccio Il cazzo Un bacione in abbraccio Se volete un altro episodio Spollice Un'altra serie La ricomincio anche oggi Domani mattina Quando volete Però spolliciate Per favore Ciao Ciao Ciao